Allora, ciao a tutti. Oggi il mio compito è quello di iniziare a parlarvi delle idee che potremo mettere in campo alle prossime tornate elettorali in regione Lombardia per quanto riguarda i rifiuti, l'economia circolare e l'energia. Faccio un accenno su quello che ci ha portato fino ad oggi sostanzialmente. Noi circa un anno e mezzo fa ci siamo imbattuti per caso, proprio a livello informativo, sul web, in un'esperienza molto interessante che è stata fatta ed è ancora in corso in una regione francese che si chiama Nord-Pas de Calais, è una regione a nord della Francia. E lì hanno fatto una cosa che ci ha affascinato molto. Hanno fatto sostanzialmente un programma basato sulla terza rivoluzione industriale, cioè sull'idea di un economista molto famoso americano che si chiama Jeremy Rifking. E lì sostanzialmente queste teorie di Jeremy Rifking le hanno prese veramente molto sul serio. Hanno il governatore della loro regione che lo ha invitato lì, hanno fatto delle conferenze, hanno capito bene di che cosa si trattava e hanno deciso tutti insieme di andare avanti su quel tema. Hanno coinvolto tutte le parti sociali, gli imprenditori, i sindacati, le scuole, le associazioni. E da lì sono partiti, hanno proprio scelto anche uno slogan che si chiama In marcia verso il futuro e sono partiti con questa terza rivoluzione industriale, dove sostanzialmente c'è tutta una regione coinvolta in maniera molto forte e molto impante. Che cos'è quella terza rivoluzione industriale che loro stanno facendo? Sostanzialmente è una rivoluzione che riguarda l'energia, quindi puntare molto sulle rinnovabili, sull'efficientamento energetico degli edifici, sulle smart grid, sui sistemi di accumulo, tutto quello che riguarda l'economia digitale, l'internet of think, la stampa 3D, l'economia circolare, rifiuti zero, l'economia della condivisione, la sharing. Quindi stanno veramente cambiando il modo di vedere la propria società e la propria economia. E tutto questo è una svolta non solo green, non è solo una questione ambientale, e poi anche dei risvolti economici e occupazionali molto importanti. Loro hanno fatto un piano al 2050, quindi non guardano come dire dall'oggi al domani come succede spesso in Italia. Hanno calcolato che corre per portare avanti questa rivoluzione un investimento al 2050 di 200 miliardi di euro, ma che porta a risparmi di 320 miliardi di euro, dovuti soprattutto all'efficientamento energetico e alle rinnovabili. E quindi hanno un saldo positivo di 120 miliardi di euro a fronte di uno scenario fossile che il business user, cioè se fossero andati avanti normalmente a fare le cose che si erano fatti fino adesso, una spendita di 400 miliardi di euro senza nessun ritorno. E anche a livello di posti di lavoro, lì hanno calcolato un saldo positivo di 165 mila posti di lavoro e una regione di 4 milioni di abitanti a fronte di uno scenario fossile come se fosse andati avanti normalmente, diciamo, come nel passato, di una perdita di 102 mila posti di lavoro. Quindi hanno veramente fatto una rivoluzione che non è solo una rivoluzione ambientale, ma è anche una rivoluzione economica, ma anche di mentalità delle persone, di approccio alla propria società, eccetera. Questa cosa ci ha affascinato molto e abbiamo deciso l'anno scorso di approfondirla. Proprio in aprile dell'anno scorso a Milano abbiamo fatto un convegno sulla terza rivoluzione industriale nel Nord Pas de Calais, abbiamo avuto con noi degli ospiti che hanno seguito da vicino quell'esperienza francese, ce l'hanno spiegata, ci hanno dettagliato un po' tutte le mosse che sono state fatte. Insomma, ci è piaciuto molto questa idea. Noi abbiamo detto, ma perché non proviamo a ragionare anche sulla Lombardia un'esperienza di quel tipo? Perché non riusciamo a provare ad immaginare quello che potrebbe essere anche in Lombardia un percorso di quel tipo? Però ci vogliono ovviamente dei dati concreti, perché un conto è, come dire, fare degli slogan, enunciare dei principi molto generici, però è un conto è poi riuscire a calarli nella nostra regione. Cosa che ovviamente non era alla nostra portata. E quindi abbiamo deciso di commissionare un paio di studi ad una società di consulenza specifica che ci potesse dire come ci si poteva muovere concretamente su quelli che sono i due grossi pilasti della terza rivoluzione industriale che viene fatta questa regione, che sono appunto l'economia circolare e l'energia. Poi, ripeto, ci sono anche tante altre cose, però il grosso sono questi due temi. E quindi su questi noi ci siamo concentrati. E da qui, appunto, sono nati l'idea di commissionare questi due studi, che non sono, come dire, delle bibbie intucabili, ma sono delle proposte di lavoro che siamo qui a condividere con tutti voi per capire se siamo sulla strada giusta, se c'è da rivedere qualche passaggio o meno. Io adesso in tutto ho mezz'ora, in realtà 25 minuti ormai, quindi saranno degli accenni molto rapidi e vi darò delle informazioni necessariamente di carattere generico. Poi però, nei prossimi giorni pubblicheremo questi dati sul nostro sito, avrete la possibilità di visionarli e anche di commentarli. riapriremo poi, ovviamente, la possibilità di un confronto anche a livello di web. Allora, partiamo con il primo di questi due studi, che è quello sullo sviluppo dell'economia circolare. Qui, sostanzialmente, siamo andati a chiedere a questa società che ci aiutasse a delineare uno scenario di economia circolare tarato sulla Lombardia. Quindi, quali sono i benefici economici che possiamo attendere, quali sono gli benefici ambientali, quali sono i benefici sociali, quali passi bisogna fare concretamente per andare verso questa direzione e via discorrendo. Andiamo pure sulla slide 3. Quindi, questo studio ha una prima parte di inquadramento generale sul tema, che poi, ripeto, ritroverete sul nostro sito, dovete andare a vederlo. Poi, una seconda parte di identificazione degli obiettivi e delle strategie di intervento e delle linee di azione, e sostanzialmente le strategie di intervento sono di due tipi. Una sul settore dei rifiuti, naturalmente, quando parliamo di economia circolare, parliamo di rifiuti zero, sostanzialmente. Ma l'altra gamma importantissima dell'economia circolare è quella della riprogettazione industriale. Cioè, riuscire a lavorare anche sulle filiere produttive, in modo tale che queste filiere siano sostanzialmente circolari, e quindi non producano, tendenzialmente, rifiuti durante i vari cicli di vita. Quindi, queste qui sono le due grosse linee che siamo andati a verificare. Vai pure su pagina 5, Andrea. Quali sono quindi i temi di intervento? La progettazione dei prodotti, i modelli di mercato e di impresa, i metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse, le modalità di consumo, ovviamente, deve cambiare anche un approccio comportamentale da parte dei cittadini. Per cui, è proprio un'idea di cambiamento sistematico e di approccio molto innovativo, sostanzialmente. Quindi, vedete questa immagine, non so se riuscite a leggerla, che c'è su questa slide. Si parte dalle materie prime. Bisogna lavorare sulla progettazione, bisogna lavorare sulla produzione e sulla riproduzione industriale, bisogna lavorare sui sistemi di distribuzione delle merci, sul consumo, sull'uso, sul riutilizzo, sulla riparazione, poi sulla colta di quelli che sono i materiali post-consumo e poi sul riciclaggio. Qui, l'idea tendenzialmente è quella di avere un circolo chiuso da qui, proprio l'idea di avere l'economia circolare in modo tale che i rifiuti residui e gli scarti tendano sostanzialmente allo zero. Noi siamo, vi ricordo, in un paese, ma anche in un'Europa, dove le materie prime sono scarse. Noi dipendiamo, per le produzioni, dall'importazione di materie prime da altre parti del mondo, che diventano sempre più risorse rare e a un costo prezioso. Quindi non ci possiamo neanche più permettere, anche solo facendo un calcolo banalmente economico, di bruciare o di mandare in discarica dei materiali che possono invece essere riutilizzati. Pagina 7. Benefici attesi in Lombardia. Anche qui è stato importante capire, proprio per quel discorso che facevamo prima, che non parliamo solo di ambiente, ma parliamo anche di economia, di occupazione e via discorrendo, quali potrebbero essere i benefici di questo programma. I benefici attesi a livello di crescita economica sono pari a 5 miliardi di euro in 10 anni. Quindi non è cosa da poco, assolutamente. E probabilmente sono proprio questi dati quelli che fanno più presa sui cittadini nel momento in cui andremo a comunicare i nostri programmi. Quindi con un incremento medio anno di circa 500 milioni di euro. Come benefici occupazionali si stima la creazione di 16 mila posti nuovi di lavoro al 2030, aggiuntivi, e anche una riduzione significativa delle emissioni di CO2, ovviamente, perché i processi produttivi vengono razionalizzati. Dopodiché andiamo pure a pagina 10, direi. Tutto quello che riguarda la fase di riprogettazione e ottimizzazione industriale, noi abbiamo cercato di capire su quali settori in particolari a livello Lombardo si poteva lavorare ed erano quelli più promettenti da questo punto di vista. E sono stati individuati questi settori, l'agroalimentare, il settore della fabbricazione dei macchinari e delle parecchiature elettroniche ed elettriche, il settore del tessile e moda, il settore legno arredo, il settore delle costruzioni, il settore della mobilità e dei trasporti. Queste sono quelle più suscettibili rispetto a questa idea di ottimizzazione delle varie fasi del ciclo produttivo. Vai pure alla 11. Qui c'è un esempio di uno di questi settori. Il primo che abbiamo citato, quello agroalimentare. Abbiamo individuato 7 azioni possibili tarate sul settore agroalimentare, che vi accenno in maniera molto rapida. Quindi l'azione 1, migliorare e valorizzare la qualità della produzione agricola del territorio e promuovere la filiera corte e la valorizzazione dei prodotti locali. Azione 2, ridurre la produzione dei rifiuti organici. Azione 3, ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani organici. Azione 4, favorire l'attivazione di progetti innovativi e nuova occupazione per l'offerta dei servizi di prevenzione e per la gestione di alcuni flussi particolari di rifiuto da scarto alimentare. Azione 5, promuovere l'utilizzo del territorio sul territorio del compost di qualità prodotto dal trattamento delle frazioni organiche. Azione 6, creare competenze locali attraverso la via di percorsi di formazione e di informazione ed educazione ambientali rivolto al mondo delle imprese, dei cittadini e delle scuole. Azione 7, valutare e monitorare il livello di circolarità raggiunto dal sistema e poi eventualmente ritarare le azioni. Questo è un esempio di quello che questo programma prevede e su ogni settore che abbiamo elencato prima ci sono delle azioni specifiche da portare avanti. Poi c'è l'altra gamba di cui parlavamo prima cioè i rifiuti zero. Su questo, come dire, c'è poco da... all'interno del movimento c'è poco da studiare perché siamo esperti dei rifiuti zero. È forse il tema su cui ci siamo concentrati fin da quando siamo nati e molti di noi sanno bene di che cosa stiamo parlando. Quindi qui ci siamo dati degli obiettivi tarati sulla nostra regione di riduzione dei rifiuti quindi ci siamo detti come obiettivo al 2020 quindi anche in un lasso di tempo molto breve ridurre la produzione pro capita di rifiuti di 30 kg per abitante all'anno. Fare un'azione di preparazione al riutilizzo quindi conseguire almeno il 2.6% di rifiuti urbani al riutilizzo sempre al 2020. raccolta differenziata porta a porta ovunque ancora purtroppo non è così in tutte le parti della nostra regione so che voi qui a Mantua siete bravissimi ma basta spostarsi nel pavese di Olanda giusto che la situazione è ben diversa. Quindi raggiungere l'85% di raccolta differenziata su tutto il territorio regionale entro il 2020. Porta a porta diffuso tariffa puntuale paghi tanto quanto scarto non recuperabile produci questo è uno stimolo molto importante per i cittadini trattamento corretto della frazione organica verde recupero di materiale di riciclaggio eccetera eccetera adesso il tempo è tiranno quindi devo andare un po' veloce però ecco l'idea è quella di minimizzare e recuperare la materia del rifiuto residuo l'obiettivo che ci siamo dati è quello di avere 65 kg per abitante all'anno di rifiuto residuo ci sono già esperienze che vanno anche sotto a 50 kg ci sono dei comuni dei territori fuori dalla Lombardia che si sono dati anche l'obiettivo di arrivare a 30 kg anni quindi diciamo non siamo neanche stati particolarmente radicali nel darci questi questi obiettivi di medio breve periodo e ovviamente abbandono dell'incenerimento e azzeramento dei rifiuti portati alla pratica dell'incenerimento e chiaramente anche della discarica andiamo pure avanti velocemente andiamo a pagina 19 ecco qui in questo schema si vede bene come siamo messi o meglio quali sono gli obiettivi dell'attuale piano regionale rifiuti della giunta Maroni quello che loro hanno deciso di voler fare al 2021 la prima riga e quello che ci prefiggiamo noi con il nostro piano vedete le differenze quindi nella prevenzione loro si sono dati l'obiettivo di avere 1.4 kg per abitante anno rispetto al 2015 noi invece ci diamo l'obiettivo di avere 30 una riduzione di 30 kg all'anno raccolta differenziata l'obiettivo del piano regionale di Maroni è il 67% di raccolta differenziata noi ci diamo l'85% di raccolta differenziata riciclo effettivo perché poi nella raccolta ci sono anche gli scarti che poi vanno a smaltimento riciclo effettivo Maroni 65% noi ci diamo l'80% come obiettivo di riciclo effettivo recupero energetico tendenzialmente a zero per noi è il 21% per il piano regionale attualmente in essere discarica 10.5% dei rifiuti urbani trattati stabilizzati secondo il piano regionale solo gli scarti di trattamento quindi una riduzione ulteriore poi qui dobbiamo andare un po' veloci perché il tempo passa ma direi che su questo punto su questo primo studio sostanzialmente le cose le cose importanti le abbiamo le abbiamo dette c'è una cosa importante ancora a dire vai a pagina 28 Andrea che tutto questo poi è delle recadute anche sui costi dei servizi ai cittadini perché poi anche gira e rigira sempre di soldi si va a parlare con i cittadini e questi sono i temi su cui loro pongono l'attenzione tutta questa impalcatura porta anche a una riduzione dei costi complessivi dei servizi di raccolta e di smaltimento quindi quelle cose che noi ci sentiamo sempre dire magari nei consigli comunali quando proponiamo la tariffa puntuale quando proponiamo di potenziare la raccolta differenziata che ci vengono sempre a dire ma costa ma poi chi glielo va a dire ai cittadini che gli aumentiamo le tariffe sono palle sono palle a parte che lo dice anche la legge lombardia con uno studio e se volete ve lo porto ma lo dice anche il nostro studio perché così facendo noi andiamo sostanzialmente a portare una riduzione del costo complessivo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti di 56 milioni di euro rispetto ad oggi e di con un meno 4.8% e di 43 milioni di euro rispetto agli scenari previsti dal piano regionale dei rifiuti quindi per i cittadini il costo pro capite scenderebbe è una media ovviamente da 109.20 euro ad abitanti a 103.9 non è tanto però la tendenza è comunque ad abbassare le tariffe anche facendo tutte queste tutte queste cose niente direi che passo all'altro vai scusami vai a pagina 31 qui molto rapidamente crescita occupazionale attesa lo scenario attuale al 2015 sono 14 mila posti di lavoro lo scenario previsto dal piano regionale attualmente in essere al 2021 17 mila posti di lavoro il nostro scenario sempre al 2021 21 mila posti di lavoro quindi anche qui c'è una crescita occupazionale prima all'inizio abbiamo parlato di 16 mila posti perché era il 2030 qui stiamo parlando del 2021 ok io direi che su questo l'ultimissima cosa pagina 33 in sintesi come conseguire questi obiettivi cioè che cosa fare questa slide dice le cose macro che bisogna fare quindi ottimizzare i sistemi di raccolta di modalità di gestione dei centri comunali di raccolta pay as you throw cioè la tariffa puntuale ricerca e sviluppo su tecnologie di selezione riciclo nuovi prodotti quindi anche l'impiantistica del riciclo va sicuramente ottimizzata e migliorata investimenti in impiantistica per la selezione del riciclo politica industriale di gestione dei rifiuti incontro tra industria della gestione dei rifiuti e industria manifatturiera quindi devono parlarsi ovviamente perché se vogliamo chiudere il ciclo per forza di cosa devono parlarsi nuovi modelli di produzione consumo uso riuso raccolta riciclo e poi ovviamente c'è anche la parte normativa che è importante e lo sviluppo anche dei mercati delle materie secondarie per esempio il fatto che le pubbliche amministrazioni devono sempre di più orientarsi verso acquisti verdi e capacità ovviamente di visione di pensiero creativo ok chiudiamo il capitolo economia circolare e apriamo quello energetico ho dieci minuti spero di riuscire a darvi un po' il quadro generale allora la prima cosa da dire è che noi il piano energetico lo stiamo facendo anche a livello nazionale uno dei punti più importanti è quello su cui abbiamo anche avuto molte informazioni sul blocco di Beppe c'è stata la possibilità di discutere di valutare vari aspetti eccetera eccetera quindi quello che noi abbiamo detto semplicemente è allineiamoci al piano regionale perdono al piano nazionale del movimento 5 stelle sull'energia cioè non vogliamo fare niente di diverso perché non avrebbe senso avere un piano nazionale che dice una cosa e un piano regionale che ne dice un'altra abbiamo detto tariamo sul contesto lombardo quelle che sono le indicazioni del piano nazionale energia del movimento 5 stelle voi sapete che il piano nazionale energia prevede al 2050 l'autosufficienza dalle fonti fossili la decarbonizzazione del nostro del nostro paese quindi chiudere con il petrolio con il carbone ma anche con il gas naturale quindi noi inizialmente abbiamo detto alle persone che ci hanno fatto questo studio facciamo la stessa cosa anche noi non è esattamente una cosa semplice per la Lombardia perché noi abbiamo delle caratteristiche diverse rispetto al contesto generale nazionale noi abbiamo una concentrazione di industrie anche pesante e energivore molto forte quindi l'idea di avere una regione lombarda come dire carbon free al 2050 a sé stante come se fosse un piccolo staterello non ce la facciamo cioè ci hanno detto guardate questa cosa qui non è possibile farla perché abbiamo delle caratteristiche particolari allora abbiamo detto giusto ragioniamo però a livello di ottica nazionale se il nostro programma nazionale prevede come nazione come Italia la decarbonizzazione al 2050 noi diamo il nostro contributo come regione Lombardia all'interno di questo obiettivo quindi abbiamo necessariamente previsto anche una quota parte di energia verde da importare dalle altre regioni perché altrimenti non ne uscivamo quindi come vedrete poi nelle slide successive noi non usiamo più sicuramente il carbone al 2050 ci diamo questo obiettivo carbone, petrolio energie fossili ma dobbiamo prevedere necessariamente un'importazione dalle altre regioni di una quota di energia verde altrimenti istante le caratteristiche della nostra regione della nostra economia non ce la facciamo e poi un'altra cosa importante queste sono linee molto tendenziali molto di indirizzo poi da qui al 2050 il mondo dell'energia le tecnologie cambieranno ci saranno delle cose che noi non possiamo neanche immaginare in questo momento quindi per forza di cose abbiamo dovuto ragionare un po' sulle tecnologie attuali confidando però che ci saranno sicuramente dei miglioramenti delle innovazioni che ci agevoleranno particolarmente in questo percorso e un po' appunto nel fatto di riuscire a immaginare un futuro che ancora per certi aspetti non c'è per esempio come l'accumulo delle batterie nelle auto che sicuramente avrà un'evoluzione nei prossimi anni pagina 2 Andrea quindi è quello che vi ho detto sostanzialmente decarbonizzazione al 2050 le direttrici su cui lavorare sono tre quelle importanti forte riduzione dei consumi energetici complessivi quindi la razionalizzazione a parità ovviamente di comfort mettiamola così di cittadini e imprese però c'è tantissimo spreco energetico nel nostro pensate solo agli edifici nella nostra regione quindi dobbiamo andare a razionalizzare a razionalizzare molto l'utilizzo dell'energia per avere un fabbisogno energetico inferiore rispetto a quello che abbiamo a parità ripeto di agio e di comfort per tutti poi un passaggio graduale al vettore dell'energia elettrica in diversi settori e usi finali e soprattutto un notevole incremento dell'impiego delle energie rinnovabili questi sono i tre macro settori in tre linee guida su cui dobbiamo lavorare consumo energetico per settori qui vedete lo storico dal 2005 al 2014 basti solo vedere sostanzialmente guardate l'ultima colonna del 2014 la parte viola in alto è l'industria la parte verde i trasporti la parte azzurra il terziario e la parte rossa il residenziale questi sono i quattro i quattro grandi settori su cui si impiega l'energia e più o meno si equivalgono tra viola verde e rosso quindi residenziale trasporti e industria per cui su cui bisogna andare a lavorare pagina 5 consumo energetico per vettori sempre la fotografia dell'oggi 2014 abbiamo il gas naturale che è il rosso la base dell'ultima colonna vedete che è fossile ed è molto importante ancora oggi poi abbiamo il blu l'energia elettrica il verde sono i prodotti petroliferi anche questi noi dobbiamo andare ad abbatterli vedete rosso e verde sono fette veramente importanti c'è anche un viola che forse voi non percepite che è il carbone c'è addirittura ancora una piccola parte di utilizzo di carbone nella nostra regione poi andiamo veloci pagina 8 sempre situazione attuale provenienza dell'energia elettrica vedete il blu la colonna l'ultima colonna la base è blu il 14 è importata quindi noi oggi stiamo importando come regione sia dall'estero che da altre regioni noi importiamo una buona fetta di energia ancora oggi rosso energia elettrica prodotta da fonti fossili e anche qui noi dobbiamo lavorare per forza di cose e verde energia elettrica prodotta da rinnovabili poi andiamo sulla 10 la potenza elettrica rinnovabile installata nella nostra regione noi oggi vedete sempre la tendenza sono degli ultimi 10 anni 2005-2014 quando noi parliamo di energia elettrica rinnovabile nella nostra regione parliamo soprattutto di idroelettrico cioè le dighe sulle Alpi sostanzialmente vedete che c'è questo zoccolo blu che è quello che ci garantisce come dire l'apporto maggiore di energia elettrica da fonti rinnovabili e poi dal 2009 in avanti vedete che è cresciuto molto anche il rosso il rosso è fotovoltaico e poi ci sono aspetti diciamo residuali poi andiamo avanti velocemente pagina 13 ecco cosa prevediamo a livello di evoluzione dei sistemi partiamo dal settore civile noi prevediamo di raggiungere una riduzione del 45% dei consumi proprio per quello che vi dicevo di efficientamento dell'utilizzo energetico quindi la prima cosa qui è razionalizzare e ridurre i consumi altrimenti non ce la facciamo diventare rinnovabili andare avanti solo con le rinnovabili dobbiamo lavorare tantissimo sulla riduzione dei consumi e aumentare appunto l'energia elettrica si ritiene che l'energia elettrica possa raggiungere una quota del 45% contro il 14% attuale quindi spingere molto sull'energia sull'energia elettrica ovviamente saranno importanti pagina 15 saranno importanti gli incentivi per sulle dettazioni IRPEF come ci sono saranno anche da potenziare da portare avanti da stabilizzare e tutti gli interventi necessari per l'efficientamento energetico come dicevamo pagina 16 settore produttivo settore produttivo anche qui noi abbiamo ipotizzato una riduzione annua dei consumi pari all'11% annua quindi al 2050 l'idea è quella di avere un consumo nel settore produttivo pari al 30% rispetto all'attuale e con l'idea anche qui di implementare l'utilizzo dell'energia elettrica fino al 55% del fabbisogno energetico complessivo contro l'attuale 45% 19 trasporti trasporti qui è tosta non utilizzare più le fonti fossili la benzina è tosta chiaramente infatti qui diciamo che il settore dei trasporti è quello che sarà sottoposto alle modifiche più sostanziali quindi circa il 60% dei consumi del settore è allocabile al trasporto di persone mentre il 40% trasporto di merci questa è un po' la ripartizione per quanto riguarda il trasporto delle persone l'ipotesi che noi facciamo è di una crescita del mercato dei veicoli elettrici e ibridi del 25% anno rispetto all'anno precedente e si suppone uno spostamento modale e un maggiore efficientamento del sistema sui trasporti pubblici tali da passare ad una riduzione dei veicoli circolanti dai 6 milioni e 5 milioni al 2050 quindi necessariamente una politica energetica di questo tipo deve basarsi anche sull'efficientamento del trasporto pubblico perché dobbiamo anche ridurre ovviamente le auto in circolazione pagina 20 evoluzione del parco autoveicoli anche qui vedete questa è una veramente una rivoluzione importante al 2016 oggi abbiamo tutto verde che sono i veicoli tradizionali prevediamo che piano piano col passare degli anni subentrino anche i rossi e i blu dove i rossi sono i veicoli ibridi e i blu sono i veicoli elettrici al 100% quindi una crescita forte dell'ibrido a partire dal 2020 mentre quella dei veicoli elettrici puri lo si avrebbe dal 2025 in avanti questo è un po' lo scenario tendenziale che noi abbiamo pensato fino ad arrivare al 2050 con tutto elettrico ovviamente una questione importante su questo scenario sarà la riduzione dei costi dell'elettrico che si prevede con l'andare del tempo l'introduzione e il potenziamento di incentivi economici e il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica pubblica ovviamente 22 veicoli commerciali veicoli commerciali lo scenario 2050 ipotizza che il 50% dei veicoli commerciali sia trazione elettrica mentre i veicoli industriali nel trasporto dei veicoli industriali si prevede uno spostamento modale verso il trasporto ferroviario che comporterà una riduzione dei consumi del 20% che qui le merci devono passare su ferro altrimenti non ce la facciamo ok andiamo avanti pagina 24 queste sono le riduzioni previste dei consumi energetici finali in Lombardia come vedete nel residenziale scusate prevediamo meno 40% di consumi nel terziario meno 42 nei trasporti meno 59 nell'industria meno 30 agricoltura meno 20 totale meno 42 ritorno sempre su quel discorso che facevo che la prima cosa da fare era la razionalizzazione dei consumi dopodiché andiamo a pagina 26 al 2050 il consumo finale è previsto essere soddisfatto per il 50% da energia elettrica qui c'è 50 in realtà è 70 poi magari il pomeriggio vi spiego perché è cambiata questa cifra adesso non abbiamo molto tempo 70% di energia elettrica i prodotti di derivazione vegetale solidi liquidi e gassosi apporteranno una percentuale pari al 32% le pompe di calore all'11% il solare termico al 7% poi vediamo pagina 29 le ipotesi di sviluppo del sistema energetico lombardo porteranno ad incremento dell'uso di energia elettrica in tutti i settori il contributo di energia elettrica passerà dal 24% attuale al 50% nel 2050 quindi è un grande risvolto da questo punto di vista 2030 si considera che le coperture di edifici utili per il fotovoltaico ammontino a 120 km2 quindi dobbiamo tappezzare di pannelli fotovoltaici tutto il tappezzabile perché se no non ce la facciamo e di ulteriori 30 km2 disponibili per installazione a facciata la produzione di energia e nella produzione energetica associata al totale degli impianti fotovoltaici installati ammonterà a 30 terawatt ora allora andiamo molto veloci ci sarà ovviamente un 32 ci sarà ovviamente un disallineamento giornaliero tra domanda e offerta che può essere ridotto attraverso l'installazione di sistemi di accumulo i sistemi di accumulo saranno importantissimi perché spesso si produce energia rinnovabile quando non serve di giorno e quindi lo sviluppo che sta già avvenendo dei sistemi di accumulo sarà una cosa assolutamente importante così come l'approccio prosumer cioè proprio questo io produco la mia energia ma me la trattengo e me la utilizzo quando serve non solo a livello di singolo ma anche di reti di piccole comunità di utenti quindi avere magari un quartiere che mette a fattor comune l'energia rinnovabile prodotta e ciascuno poi la usa nei momenti nei momenti necessari quindi i sistemi di accumulo su questo sono importantissimi pagina 35 ricadute occupazionali allora anche qui come dicevamo è importante poi capire quali sono gli effetti non solo sul green diciamo così ambientali ma anche poi sull'occupazione allora qui le ricadute occupazionali sono stati ipotizzati posti di lavoro aggiuntivi generati da diversi settori di intervento efficientamento edilizio efficientamento dei cicli produttivi impianti solari termici pompe di calore biomassa solida biocombustivi innovativi e impianti fotovoltaici l'occupazione espressa per unità lavorative annue una unità lavorativa annua rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato tempo pieno quindi due part time sostanzialmente rappresentano una unità di ULA unità lavorative annue qui sostanzialmente si è visto che le unità lavorative annue saranno quasi 40.000 39.360 posti di lavoro ogni anno occupati per le attività di installazione quindi come dire attività che si fanno una volta solo cioè io su un edificio intervengo una volta piazzo il pannello fotovoltaico non è che per anni per 50 anni sono su quell'edificio lì ovviamente cambia quindi sono le unità lavorative sono circa 40.000 che si prevede ogni anno saranno necessarie per fare questo tipo di attività e poi ci sono le unità lavorative annuo permanenti che sono quelle che invece poi serviranno per tutta la parte di fase di esercizio e manutenzione degli impianti e sono al 2050 58.000 quindi noi sostanzialmente al 2050 prevediamo di avere un aumento di occupazione di circa 100.000 100.000 occupati che se vogliamo possiamo aggiungere 16.000